è un qualcosa che ogni catanese a contatto quando si ritrova davanti alla Santa si commuove infatti quando esce Sant'Agata tutti gridano viva Sant'Agata tutti i devoti tutti quindi è qualcosa di interiore per noi fra noi e la Santa non l'ha visto? bellissimo grazie Non c'è un altro discorso di ragione infatti, Luca non stai qua. Che scacchio di solo, che cazzo è, porca puttana, ci sono bambini. Scusi, signore, non l'abbiamo visto. Vi saluto. Salve, signor Clemente, e auguro una buona giornata. Scusi, signore, non l'abbiamo visto. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.